Il Museo Casa di Dante festeggia il Dante Dì, lo fa dopo un periodo un po' complicato e torna a festeggiarlo insieme a tanti soci, a tanti operatori culturali, proseguendo questa nuova fase più tecnologica che il museo ha deciso di intraprendere per cercare di essere più vicino a grandi e piccine, con un'offerta culturale interessante che fa uso di tutti i nuovi mezzi che ci offre la tecnologia. E quindi vi aspettiamo al museo, certi che farete un bellissimo viaggio nelle atmosfere tantesche.